I nove errori da non fare quando fai una chiamata di follow up. Ciao, sono Corrado Fontana, oggi voglio mostrarti quali sono i nove errori che non devi mai fare se fai una chiamata di follow up. Che cos'è una chiamata di follow up? La chiamata di follow up è la chiamata che tu fai al cliente dopo che gli hai mandato la proposta, dopo che gli hai mandato il preventivo e dopo che chiaramente non l'hai più sentito. Quindi vuoi sapere come andranno le cose. In questa fase il 95% delle persone commette degli errori fatali che bruciano la vendita. Ora, saper fare una chiamata di follow up corretta è essenziale però è ancora più essenziale capire cosa non fare. Quindi in questo video ti mostro le nove chiamate sbagliate che non devi assolutamente fare, quelle che da oggi dovrai smettere in maniera assolutamente decisa di non commettere più, di non fare più e poi ti rivelerò quello che devi fare invece se vuoi fare in modo che il tuo bacino di contatti, il bacino di clienti e di prospects che hai possa invece essere desideroso di comprare da te in un appuntamento senza preventivi facendoti pagare prima. Quindi andiamo nello specifico. Vediamo quindi nove errori da non fare nel follow up. Sono determinanti, sono quelli che purtroppo sento costantemente. Allora, la prima chiamata quando chiami, chiami il cliente o gli mandi il whatsapp perché il concetto vale che tu lo chiami o gli mandi il whatsapp o gli mandi la mail stesso discorso però le parole sono sempre quelle che girano quindi prima chiamata da non fare guarda ti chiamo perché volevo parlare con te cioè è talmente banale che se questo non si è fatto sentire dopo che gli hai mandato la proposta gli hai mandato il preventivo l'hai visto in negozio, in ufficio, studio hai fatto il sopralluogo volevo parlare con te io no cioè quando lui risponde dice io no, non volevo parlare con te per questo c'è stato questo silenzio che è durato settimane o mesi ok oppure un'altra telefonata sbagliata è volevo solo entrare in contatto con te quindi ti chiamo solo per entrare in contatto per tenerci in contatto sbagliatissima e chiaramente parliamo di cose che ci vengono spontanee perché è imbarazzante richiamare uno che non si può più sentire lo capisco perché un conto è quando il cliente ti chiama come dico sempre sei tu l'esperto è lui che ha bisogno è lui che ti rincorre sei tu che comandi ma quando magari sei in un periodo in cui hai bisogno di vendere e quindi gli fai i manicaretti gli fai i fiocchini i fiocchi e tutte le cose i dettagli precisi perché lui possa dire cavoli questo si pensa a me perché ha bisogno allora in questi casi qua oppure la terza è solo per saperne di più guarda ti chiamo solo per saperne di più perché sai stavo pensando che magari potrebbe esserci questa o quest'altra e mi stavo chiedendo se magari balle 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 se lui non sta chiamando c'è un motivo e questi tra l'altro sono allora queste telefonate che io dico sono errori da non fare nel momento del follow up sono gli stessi errori che tu puoi applicare sia nel mondo del business nel tuo lavoro che nell'approccio con una persona per altri interessi magari c'è una ragazza che non ti risponde sai volevo chiamarti solo per parlare con te volevo chiamarti o volevo sentirti se lei non si fa sentire c'è motivo no? e quindi qua si torna il concetto che il comportamento umano è sempre lo stesso oppure la 4 solo se avevi bisogno di qualcosa quindi ti chiamo solo per capire se avevi bisogno di qualcosa se ho bisogno di qualcosa sono io che ti chiamo può rispondere lui no? la 5 questa è figa perché questa qua è frequentissima ti chiamo solo per capire se hai ricevuto l'email il pacco e qua potremmo aggiungere degli altri il catalogo sai ti chiamo per capire se hai ricevuto scusa se l'hai spedito già smettere di fare questo tu fai soldi poi ti dirò cosa devi fare chiaramente perché naturalmente già smettere di commettere cioè di ripetere un errore ti porta a andare verso il risultato positivo oppure magari richiami i clienti anche vale per riprendere dei contatti vecchi cioè hai dei bigliettini da visita vecchi devi stare cominciando con un nuovo business una nuova azienda magari stai facendo network tante cose o una rubrica vecchia ti chiamo per presentare presentare l'azienda o il prodotto adesso lavorando con una nuova azienda volevo presentartela la 7 per fissare un appuntamento al telefono o di persona e perché e qua perché devo presentarti ma non mi interessa e lui ti dirà ma guarda le scuse ovvie del cliente no? e dai sentiamoci più avanti se sono libero se ho tempo e tu lo richiamerai non lo risponderà più ok? questa qua poi la 8 non ti ho più sentito terribile questa non ti ho più sentito eh ci sarà motivo sarà motivo no? se non mi hai più sentito la 9 sai ti chiamo per capire capire per capire capire se avete preso una decisione secondo te fai la figura di quello che non ha bisogno che ha la fila di clienti o del disperato nel mondo del business fai la figura di quello del disperato nel mondo del dating morto di figa ma i concetti sono quelli perché se io sto inseguendo qualcuno sono il venditore le persone non amano che gli si venda vogliono comprare ma non amano che gli si venda se invece tu ti fai cercare sei l'esperto ma come faccio a farmi cercare dalle persone che ho in rubrica nei biglietti da visita vecchi semplice devo conoscere l'iTicket Closing che cos'è l'iTicket Closing? l'iTicket Closing è quello che io insegno tecniche di vendita professionale per vendere al prezzo premium quindi al prezzo più alto del tuo settore senza preventivi senza sconti in un appuntamento facendoti pagare prima se vuoi sapere come si fa come applicare l'iTicket Closing al tuo settore al tuo prodotto al tuo servizio c'è solo una cosa da fare qui sotto in base a dove stai guardando questo video sotto o sopra c'è un link ti rimanderà ad un webinar che trasmetterò in diretta al quale puoi partecipare in diretta c'è un limite di 50 persone però è un webinar gratuito dove non devi assolutamente spendere nulla è un webinar dove ti mostro come applicare l'iTicket Closing quali sono gli ingredienti per vendere iTicket nel tuo settore quindi quello che ti raccomando di fare adesso se vuoi sapere come evitare di commettere questi errori è di iscriviti al webinar e partecipare se invece sei solamente curioso di capire come funziona la vendita iTicket quindi vuoi capirne un po' di più beh allora iscriviti al mio canale guarda gli altri video e continua a seguirmi grazie a tutti ciao 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 ciao